Andiamo a vedere nel dettaglio le misure contro la criminalità giovanile approvate proprio oggi con Laura Tangherlini. Repressione e rieducazione alla base del pacchetto di misure urgenti per contrastare baby gang, disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile. Un modello di intervento da applicare in aree particolarmente degradate, a cominciare da Caivano, per la cui riqualificazione è stato nominato un nuovo commissario, l'ex medico della Polizia di Stato Fabio Ciciliano e sono stati destinati 30 milioni di euro. Serviranno da subito a ripristinare un vecchio centro sportivo, ora ridotto a discarica, oltre ad altri interventi di lizi. Le norme dunque, che mirano a responsabilizzare anche i genitori. Non più di 30 euro di multa, ma fino a due anni di carcere per chi non manda a scuola i propri figli. Multa da 200 a 1000 euro in caso di mancata sorveglianza di un minore, resosi colpevole di un reato. Potenziare la facoltà di arresto in flagranza per i minori ed ampliare i casi di applicabilità della pena detentiva in carcere, anche per i minori e per gli adulti. Quando parliamo di minori parliamo sempre nella fascia degli ultra 14 anni. Già dai 14 anni si potrà venire arrestati se colti in flagranza per detenzione e spaccio di stufe facenti e ammoniti dal questore con un daspo in caso di risse e violenze, ammonimento anche per fenomeni di bullismo, non solo il cyberbullismo. Per reati che prevedono una pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, al minore si prospetta l'accesso a un percorso di reinserimento e rieducazione tramite lavori socialmente utili o collaborazione gratuita con Enti No Profit fino a 6 mesi. Il parental control diventa obbligatorio sui cellulari. Abbiamo letto degli articoli che dicevano che la responsabilità penale che oggi come sapete trova il limite nei 14 anni di età sarebbe stata abbassata a 12. Tutto questo sarebbe stato contrario ovviamente alla razionalità, all'etica e anche all'utilità, non è stato fatto. Comeppure non è stata inserita la stretta sull'accesso ai siti porno per i minori. Comeppure non è stata inserita la stretta sull'accesso ai siti per i minori. Comeppure non è statainserita la stretta sull'accesso ai siti per i minori.